del Linate Airshow Signori e signori, il Flight Team Roma Numero 1, leader della nostra formazione Numero 2, Gregario di sinistra, Paolo Numero 3, Gregario di destra, Roberto Numero 4, Fanalino, Giovanni Flight Team Roma è una battuglia aerea civile formata da quattro avvilivoli P2002 Sierra della Tecnam oltre ai piloti, il team supportato da una ground crew composta da Nino Vivona che da quest'anno ha il compito di essere il nostro training advisor un responsabile delle relazioni esterne è il nostro reporter